signori buongiorno a tutti mi trovo qui a bussetto mi sto trasmettendo in diretta il raduno si va volvendo verso l'esposizione statica questi mezzi rimarranno un po qua in esposizione statica guardate che spettacolo non solo proprio non solo mg c'è anche qualche altra vettura ma pochissime sono solo una piccolissima parte completamente trascurabile mettono i cartoni sotto perché hanno paura che perdano olio evidentemente guardate guardate quale spettacolo ragazzi bisogna vederle dal vivo poi per gustarle a pieno le immagini sono quello che sono ce ne sono di ogni tipo ed epoca sono veramente tante io ho perso il conto ho perso il conto ma non voglio esagerare saranno almeno una cinquantina ce ne sono proprio di ogni di ogni tipo ecco la vedete la c'è una porsche non c'entra niente però fa la sua bella figura anche lei guardate queste che spettacolare sono tutte ragazzi sono tutte una più bella dell'altra e ce n'è anche una moderna anche qua una moderna 2001 questa è recente è sempre un mg come le altre signori qui per il momento chiudo la diretta saluto saluti ci sta osservando buona giornata a tutti